Notizie importanti arrivano per l'Istituto Tecnico Agrario Vavoncelli, diretto dal Preside Pio Mirra. Infatti la Regione Puglia ha inserito nel prossimo anno scolastico il corso di Eno Gastronomia. L'eccellenza dell'Istituto Agrario, che è arricchito dai corsi di viticoltura ed enologia, può costituire una filiera formativa, omogenea, funzionale, per uno stretto raccordo scuola-lavoro-imprese e per un aumento dell'occupabilità dei giovani diplomati. La creazione di questa nuova figura professionale fa sapere il Preside Mirra in una nota inviata agli organi di informazione e in esclusiva per il nostro telegiornale, mette in evidenza la capacità di intervenire nella valorizzazione, trasformazione e presentazione dei prodotti enogastronomici e naturalmente sarà di favorevole impatto nel nostro territorio produttivo attraverso la promozione delle tradizioni locali e l'individuazione di nuove tendenze gastronomiche.